Ben trovati, ben trovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi in soli 3 minuti vedremo come realizzare un effetto simile a quello che state vedendo in Adobe Premiere Pro senza mettere mano ad After Effects, si vede eh, con After potremmo fare molto meglio però con Premiere in 5 minuti, anzi in 3 minuti, vi mostro come rapidissimamente sia possibile creare un effetto simile a questo iniziamo subito! Innanzitutto cerchiamo la clip che ci interessa, eccola qui, ok? Ho già marcato l'in e l'out del pezzettino della clip che ci interessa ovviamente questa è una clip a 1280x720, la mia sequenza è a 1920x1080 quindi c'è questo messaggino più che normale ma in questo caso mi interessa mostrarvi l'effetto quindi ridimensiona, dimensione fotogramma ed ecco la clip, ok? senza movimenti, chiara, alla luce del giorno iniziamo col trasformare questa clip in una clip stile visore come fare? utilizzeremo solo effetti presenti in Premiere Pro cercate l'effetto tinta questo fantastico effetto ci permette di virare i colori di default in bianco e nero ma se io il bianco lo sposto verso il verde ok, un verde di questo tipo qui chiaramente fate le prove, scegliete il colore che voi preferite possiamo anche farlo un verde un po' più brillante per esempio eccolo qui abbiamo ottenuto il nostro effetto visore fantastico ok, come creare adesso l'effetto mirino ma anche questo è molto semplice creiamo un solido quindi nuovo elemento scegliamo mascherino colorato va bene così, non tocchiamo nulla diamo ora un nome all'elemento appena creato per esempio mirino ok e abbiamo il nostro solido eccolo qui lo portiamo in timeline senza sovrapporlo alla clip lo tagliamo e via chiaramente adesso per poterlo trasformare in un mirino dobbiamo utilizzare una maschera quindi alla voce opacità clic sul cerchio ecco qui la nostra maschera adattiamola per trasformarla in un mirino ingrandiamola un pochettino invertiamo chiaramente la maschera in maniera tale che quello che è all'interno di questa maschera sia visibile e quello che è all'esterno sia nascosto fantastico aggiungiamo un pelino di sfumatura alla maschera e abbiamo ottenuto il nostro effetto mirino come ho aggiunto le due linee verticali e orizzontali molto semplice anche questa operazione grafica andiamo alla voce nuovo livello e aggiungo un rettangolo wow nelle proprietà di questo nuovo rettangolo appena creato espandiamo abilitiamo la traccia spegniamo il riempimento di default c'è il riempimento lo spegniamo diamo un po' di spessore ovviamente alla traccia e adesso modifichiamo questo rettangolo perché diventi una linea eccolo qua creare il secondo elemento è molto semplice basta fare ctrl c per copiarlo ctrl v per incollarlo abbiamo una copia identica ma andiamo alla voce rotazione e diamo 90 gradi ovviamente dobbiamo spostarlo per centrare anche questo elemento e abbiamo due elementi che simulano un mirino creiamo un po' di animazione selezioniamo la nostra clip originale e iniziamo a lavorare con un po' di keyframe bene inizialmente vogliamo che sia a questa distanza il nostro cecchino quindi accendiamo il keyframe sulla scala e sulla posizione animeremo questi due parametri vado un po' avanti inserisco un nuovo keyframe e facciamo finta che io qui voglio fare una bella zoomata andiamo un po' avanti ancora un po' vado di zoom di scala in realtà sistemo la posizione sul primo uomo vediamo come viene questo movimento ok ipotizziamo che adesso a un certo punto voglio muovermi sul secondo uomo aggiungo un secondo keyframe solo alla posizione più che sufficiente e mi muovo sull'altro individuo termina così anche questo mini tutorial di oggi firmato fabioambrosi.it ovviamente per cose più complesse utilizzate after effect mi raccomando se vi è piaciuto questo mini tutorial mettete un like condividete questo video venite a fare visita al sito internet www.fabioambrosi.it dove ci sono anche altri tutorial il corso di premiere e il corso di after effect completi se vi fa piacere cercatemi sulla mia pagina facebook mettete un like a fabioambrosi grazie al prossimo mini tutorial ciao ciao Grazie a tutti.